Ciao ragazze, oggi il video è su come arricciare i capelli naturalmente senza calore. Allora, questo è un metodo che ho già visto su YouTube da una ragazza americana e ho pensato appunto di riprodurlo per voi. L'ho già fatto in passato e, allora, diciamo, la ragazza diceva di tenerelo su tutta la notte. Infatti le volte che l'ho fatto, l'ho fatto stare tutta la notte, solo che oggi non ho tempo, perché sono adesso le 3 del pomeriggio e stasera appunto dovrò uscire, quindi le farò stare su tra le 4-5 ore, al massimo 6. Niente, quindi adesso ragazze vado ad asciugarmi i capelli con il forno e poi riprendo il video e vi faccio vedere appunto come funziona questo intreccio e poi vi farò vedere questa sera come saranno venuti i capelli. Ciao ragazze, eccomi qua, ho riciato i capelli, ho applicato il Seasol Spray, questo di Pony Guy, e ho fatto la prima metà, allora dovete dividere i capelli in due parti. Prendere due ciocche di capelli, passiamo questa più dietro, avanti quest'altra, due volte. Ok, adesso dobbiamo andare a prendere altre ciocche di capelli da dietro, ponendola a questa ciocca qua, e la passiamo con l'altra. Le ciocche di capelli da dietro le unisco con quest'altra, e la passo dietro. Dovete fare così per tutti i capelli. Vi consiglio delle ciocche anche un po' più grandine, così, a parte che finirete prima, ma il riccio io era un po' più largo. Andiamo i capelli dietro. E li uniamo con questo. Dovete rimanere sempre molto tirati, molto attaccati alla testa. Ecco qua l'ultima parte. Una volta arrivati qua, uniamo le due parti dei capelli, e le cominciamo a girare su se stesse, poi le attorcigliamo, continuiamo il giro, dobbiamo attorcigliare. in modo da andare a bloccare così. E le premiamo con un elastico. Eccoli qua. Si sa i risultati. Questo è venuto un po' forse più stretto rispetto all'altro che ho fatto. Va bene, comunque, per un risultato ottimale, dovete andare a dormire così. Vi faccio vedere i capelli dietro, mi risultano completamente separati. E niente ragazzi, adesso li tengo così per, come ho detto prima, 4 o 5 ore, proprio al massimo se riesco 6 ore. Poi li sciolgo e vi faccio vedere il risultato. A dopo. Ciao ragazze, eccomi qua, adesso andiamo a sciogliere questi due torciglioni e a vedere appunto il risultato. come potete vedere appunto sono venuti bene. Adesso ne faccio vedere l'altra parte. Allora, questo è il risultato appena sciolto. Adesso ne andiamo un po' a spettinare con le mani. e come potete vedere ho cambiato il colore di capelli, mi sono fatta più scura. Comunque, questo si avvicina un po' di più al mio colore naturale. Vado a spruzzare ancora un po' di sisal spray. e niente ragazzi, questo è il look finito e presto vi farò il video sempre riguardante i capelli per averli mossi senza calore con il metodo della fascia. E niente ragazzi, ci vediamo nel prossimo video. Io vi mando un bacio e ciao!